È stata una liberazione poter riportare questo magnifico stand del marchio Carpigiani all'interno di SIGEP e rincontrarsi di persona. Il digitale per noi è molto importante soprattutto per raggiungere i consumatori più giovani e per riuscire a comunicare direttamente con i nostri clienti. È molto entusiasmante perché dopo questi due anni tornare finalmente a vedere i clienti e tutti i pasticceri è una grande emozione. Dopo due anni tornare in presenza al SIGEP è importante perché ci ha dato l'opportunità di incontrare i nostri clienti e anche clienti nuovi che si affacciano in questo interessante settore, quello della gelateria e della pasticceria. Grazie a tutti!